Il mostro di Firenze si intreccia ancora una volta nelle vicende nere che riguardano la vicenda del Circeo. Infatti uno dei protagonisti di quella pagina delittuosa, Angelo Izzo, ancora a parlare attraverso la relazione conclusiva della commissione d'inchiesta sui delitti e i misteri italiani nel quale emergono ancora le piste, quella perugina e un'altra ignota fino ad ora collegabile a un altro delitto degli anni Ottanta. Delitti e misteri che si intrecciano storie nere apparentemente lontane e che riemergono dal passato e che sembrano contaminarsi a vicenda. Dalla relazione conclusiva della commissione parlamentare sui fenomeni criminali della Camera presieduta da Nicola Morra ci sarebbe una figura nel cuore di tutte le varie e complesse storie criminali d'Italia, rimaste in parte o totalmente insolute, e quella di Francesco Narducci, il medico perugino. Conclusioni, quelle della commissione, destinata a far discutere, che fanno sponda sulle rivelazioni di Angelo Izzo, il mostro del Circeo, incontrato dalla commissione stessa in carcere a Belletri. Intorno a Narducci, ipotizza ancora la commissione, c'era un mix di massoneria e versione esoterismo, dove spunta persino l'ultimo degli indagati del mostro, il pratese Giampiero Vigilanti. Narducci è stato trovato morto nel Trasimeno, ma secondo Izzo quel cadavere non era il suo, bensì di un messicano morto tre anni prima. Si tratterebbe dunque di una messa in scena per coprire la sua fuga all'estero quando ormai era ad un passo dall'essere individuato come il volto del secondo livello delle stragi del mostro. La relazione è stata trasmessa in procura. Grazie a tutti.